Nato 15 anni fa in omaggio ai cantori di Carpino, interpreti della tradizione attraverso il canto e i suoni della chitarra battente, oggi è a pieno titolo il festival rappresentativo del Gargano. Stiamo parlando del Carpino Folk Festival, l'evento che dal 3 al 10 agosto farà rivivere nel comune foggiano il valore della terra e le storie antiche di uomini e donne ripercorse attraverso le musiche popolari pugliesi. Due le anteprime che anticiperanno la rassegna, il ballo di Sant'Anna in programma il 26 luglio a Lesina e le tarantelle del Gargano in cartellone venerdì 30 a San Marco in Lamis. Alla presentazione del Carpino Folk Festival nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari, anche l'assessora alla cultura della legione Puglia Silvia Godelli. Il Gargano si è animato da molti festival, alcuni di teatro, altri di musica dal vivo e altri come questo presentano l'innesto tra musiche di tradizione contadine e musiche del mondo. Il Gargano è un polo turistico fondamentale per la nostra terra, con una realtà di attrattività diversa dal mare a grandi tradizioni artistiche e culturali. Noi contiamo di lanciarlo al massimo tra quest'anno e l'anno 21 sui grandi itinerari turistico-culturali internazionali.